Stella Targenti, vicepresidente della regione toscana, quanto il futuro è già attuale o quanto il futuro possa essere ancora lontano per la nostra istituzione scolastica? Sicuramente c'è molta ricerca anche di innovazione nelle nostre scuole, dobbiamo riuscire a sopportarla, sopportarla anche con la dotazione di strumenti tecnologici. Non dobbiamo dimenticare che i nostri ragazzi sono nativi digitali, che sono abituati a un certo tipo di linguaggio, all'utilizzo di certi strumenti e purtroppo che non esistono in realtà quotidiana ancora nelle nostre scuole. Quindi noi dobbiamo riuscire a sopportare questa presenza di questi strumenti anche se sappiamo che questo non risolve certo la dimensione al 100% della qualità della nostra scuola. Sono strumenti, non sono certo poi competenze, ma sicuramente aiutano, possono aiutare a rendere più attrattivo lo stare a scuola ai ragazzi e quindi aiutarli a acquisire quelle competenze fondamentali per la loro vita. E questa, diciamo, purtroppo per noi è ancora una sfida, ma in realtà, come dire, non dobbiamo pensare di stare costruendo il futuro, ma, come dire, lo stiamo un po' rincorrendo.